Siamo Filippo da Treviso, vai Filippo dimmi. Allora intanto ho sentito poco fa Feltri che insultava tranquillamente Terroni chiamandoli Terroni e fa benissimo, io vi posso dire a lui che è un vecchio vasculopatico, ora al di là di questo chiamo un vecchio. Non c'è qui per replicare. Non c'è qui per replicare. Eh l'ho sentito poco fa, vabbè ma. Ho capito amico mio, non può replicare e tu che cosa gli dici? No, 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 no. Filippo, ma chi è che parla al telefono adesso? Chi è che parla al telefono? Ah è tornato? È rimasto collegato, sì, è rimasto collegato. Ma io che è quel gran maleducato cretino che parla. Nessuno è maleducato qui, qui ti dicono le cose come stanno. Ma gli hai detto che è un vecchio adesso? Gli hai detto Filippo, su, non rompere i coglioni. Eh vabbè ma adesso che è un vecchio chiamano i negri negri, allora non posso dire che è un vecchio. Non poterà che sia tanto giovane, posso chiamarlo un bambino, non mi sembra. Ma io ho detto semplicemente che il capo dell'organizzazione mondiale della sanità è un negro, mi pare. Eh va bene, ma io sto dicendo che sarà pure un negro, ma il capo mondiale della sanità avrà sicuramente il tuo motivo. Ma andate a fare il culo, me ne vado via. Ma sì, arrivederci, vai su, è l'ora di dormire. L'hai fatto andare via, l'hai fatto andare via. Eh vabbè dai pazienza, è l'ora di andare a letto per lui.